è chiaro, a me penso che sia chiaro per quale motivo si fa musica insomma però siccome c'è tanta altra gente che deve suonare anche per rispetto degli altri non si può abusare di crescita ma niente non è sembrava che si può nessuno e se poter è sembra fossile non si può sapere è sembra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.